Buongiorno a tutti amici di Mille Cuore Rosso Blu, qui oggi siamo alla Ciclope, per un grandissimo momento qui a Bologna si è appena fondato il club Lombardia Rosso Blu di cui abbiamo proprio davanti alle nostre telecamere la presidentessa Lucia Vitale che ringraziamo per essersi prestata a questa brevissima intervista per lanciare il nuovo club a cui anche noi ci siamo iscritti. Allora Lucia, come è nata l'idea di questo club Lombardia Rosso Blu? L'idea è nata seguendo un po' le trasmissioni radiofoniche locali che seguono il Bologna Calcio e che si possono seguire in streaming anche da lontano, ho scoperto che ci sono parecchi tifosi rosso-blu in giro per il mondo e non solo per l'Italia e così ho cominciato a cercarli su Facebook, il primo che ho trovato è Luca Rumi che mi ha aperto la strada trovando tantissimi altri tifosi. Luca Rumi, vicepresidente del club. Quanti siete? Siamo ad oggi 30. Qual è il vostro obiettivo come neo club della grande famiglia dei club rosso-blu? Senz'altro condividere la nostra passione tutti insieme, sostenere sempre tantissimo la squadra che è la nostra passione e quindi sostenerci anche gli uni con gli altri nel seguire la nostra passione. Abbiamo anche alcuni associati che hanno situazioni non semplici, anche magari con situazioni di salute un po' precarie ma che vogliamo davvero far sentire membri della nostra famiglia e quindi arrivare anche da loro e farli sentire da vicino proprio il calore e la passione per la squadra. Per chi vi volesse contattare, quindi mettersi in contatto con voi, Lombardia e non solo, come si deve fare? Chi si deve contattare? Quali numeri o quale mail? Allora, sicuramente è possibile contattarmi su Facebook, Lucia Chiara Vitale, oppure contattare direttamente il gruppo che è presente su Facebook chiedendo l'iscrizione, il gruppo si chiama proprio Lombardia Rosso Blu, è possibile chiedere l'iscrizione e da lì contattarci per poter essere iscritti. Perfetto Lucia, grazie, in bocca al lupo a te e a tutti gli iscritti al club. Grazie a voi. Eeeh! Parta Bologna!